Yonseki le ha definite le elezioni più importanti al mondo del 2023. Per la prima volta dopo vent'anni di dominio incontrastato, Recep Tayyip Erdogan rischia di perdere il potere in Turchia, contro un'opposizione più unita rispetto al passato, a sostegno di Kemal Klic Darolu. Inevitabili le ripercussioni del voto sul rapporto con l'Unione Europea, visto che i negoziati di adesione del paese sono di fatto congelati da tempo. Se il sviluppo sarà ancora problematico per la democrazia, per il ruolo di legge, ma anche l'aggressività vis-à-vis di vecchi d'EU, come Greece e Cyprus, si continuereà. Siamo arrivati in una fase dove la divisione tra Turchia e EU sarà irreversibile. Gli analisti concordano sul fatto che una vittoria dell'opposizione a Erdogan significherebbe un'opportunità per rinnovare le relazioni tra Ankara e Bruxelles. Ci sono tre fondamentali dell'opposizione che mi fanno pensare così. La prima è la re-democratizzazione e la re-instituzionalizzazione, per cui la Turchia si tornerebbe una volta una democrazia, si riempirà la regla di legge, si riempirà il ruolo di legge, e si provano di darei i giocatori e libertà per tutti. Secondo, si riempirà che si riempirà la vocazione tra Turchia. E, terzo, e credo che questo è anche molto importante per le relazioni tra Turchia, si iniziano a giocare un ruolo di relazioni costruttivo in affaires regionali, in Europa più grande e in un senso multilaterale. Pure i rapporti della Turchia con gli alleati della Nato si sono complicati di recente, a causa delle tensioni sul comportamento di Ankara con la Russia e del coinvolgimento nei conflitti in Siria e Libia. E nemmeno con una vittoria dell'opposizione i cambiamenti saranno immediati. Un'altra vittoria della Turchia di oggi, in particolare il fatto che ha aumentato il suo potere militare, che non ha aumentato, che ha più influenzato politica, che potrebbe rimanere, nel quadrante del Mediterraneo orientale le strategie turche non subiranno modifiche radicali, anche se la propensione al dialogo potrebbe sostituire la retorica aggressiva.